ok per fare questo esercizio parliamo una posizione seduta da qui portiamo le gambe flesse in questo modo una volta arrivati in questa posizione andremo a fare delle rotazioni di busto dal lato opposto di dove si trovano i piedi ritorneremo in posizione di partenza e ripeteremo quando fate le rotazioni cercate di non alzare il sedere dal pavimento ma di mantenere bene il bacino saldo a terra